23 giugno 1969 esce il primo numero del periodico Il Manifesto. Si tratta in origine di una rivista politica mensile diretta da Lucio Magri e Rossana Rossanda. Alla redazione del primo numero, con una tiratura di 75.000 copie per le edizioni Dedalo, partecipano Luigi Pintor, Aldo Natoli, Valentino Parlato, Luciana Castellina e Ninetta Zande Giacomi. Il Manifesto raccoglie le opinioni della componente più a sinistra del Partito Comunista Italiano, guidata da Pietro Ingrao, in contraposizione a quella più moderata, capeggiata da Giorgio Amendola. In molti casi la rivista assume posizioni dure contro la linea maggioritaria del PC, in particolare si schiera apertamente contro l'invasione della cecoslovacchia da parte dell'Unione Sovietica. È il 23 giugno del 1969 quando il Manifesto esce per la prima volta in edicola. Il quotidiano comunista viene fondato da un gruppo di intellettuali a sinistra del PC, in polemica col Partito Comunista Italiano e quindi fuoriusciti. Da allora, da quel giorno, è tuttora in edicola ed è diventata una vera e propria istituzione del giornalismo italiano. È sopravvissuto a varie traversie grazie anche alla mobilitazione dei lettori che si sono autotassati per garantirne la sopravvivenza. Ha anche qualche primato perché è stato, ad esempio, il primo quotidiano italiano a dotarsi di un sito internet, pensate già nel 1995. Il primo direttore fu Luigi Pintor, l'attuale direttrice è Norma Rangeri.